più che altro per te ma vediamo se riesco a registrare anch'io no no allora non c'è problema dai vabbè ti mando poi allora eccoci qua e oggi parliamo di tantra no vabbè tanto come solito sono molto interessanti questi testi perché stanno facendo c'è parlano è molto serio avalon e spiega che cos'è veramente tantra che non è non ha a che vedere con tutta la diciamo che finora ho dovuto assistere in maniera proprio abominevole va bene scoraggiante direi ma ma purtroppo purtroppo non è soltanto un accidente non lo so lo so sono sono comunque cose tante sa che c'è qua ancora qualcuno quella che capisce le cose infatti adesso superate dei 3 milioni di visite su cuore però ottimo adesso vediamo un po come va la situazione il tantra arthur avalon è il nome di penna di sir john woodroffe noi conosciamo dimmi che cosa volevi discutere allora intanto una cosa interessante che a quanto pare questa è una dottrina che ovviamente parte dai veda tutte le dottrine partono dai veda e quindi anche il tantra come nei veda si parla di una società tantrica e quindi prendono in considerazione anche gli aspetti sociali quindi l'aspetto giuridico l'aspetto insomma tutti gli aspetti della nostra vita come anche le veda quindi non è solamente relegato all'aspetto sessuale anzi cioè è tutto un altro come del resto il kamasutra kamashastra l'aspetto sessuale soltanto una piccola parte esatto perché il kamasutra c'è tutta la descrizione delle arti di un di una buona padrona di casa di un buon del programma giornaliero dei delle persone diciamo così civili di buona famiglia che cosa devono fare si alzano al mattino fanno questo fanno quello le 64 arti comprendono la cucina la mineralogia la matematica le lingue straniere cioè uno dice ma si è molto interessante perché come ho sempre pensato io no che mi è sempre stato detto che io praticamente cioè faccio tutto e magari non mi specializzo in niente no e io dico ma in realtà poi è vero è vero questo ma io ho una curiosità a 360 gradi ma ma e questo e questo è il significato della parola olistico e brava brava il problema è che certo che ti che ti o ci criticano perché siamo olistici invece di essere super specializzati come hanno sezionato la conoscenza negli ultimi decenni specialmente per cui la gente non si capisce così come per esempio c'è stata quella famosa storia della p della batteria della pila di bagdad cioè che gli archeologi dal punto di vista scientifico non ci capiscono niente niente gli vai a parlare di geologia all'archeologo e gli fai vedere che l'erosione del bacino della sfinge è un'erosione dovuta chiaramente a grandi quantità di acqua e quelli ti bollano di pseudoscienza e sì e questo è il problema cioè la mano destra non sa quello che farà la mano sinistra cioè non ha senso io questo quando ho incominciato a fare questo mestiere ogni volta che arrivava una persona nuova che mi portava dei nuovi quesiti io andavo a guardarmi altre cose perché mi mancava la risposta certo ok e questo ovviamente mi ha poi portato a fare corsi su corsi studi su studi e la ricerca della conoscenza noi dobbiamo avere una visione più multidimensionale possibile della conoscenza in modo da riuscire a capire dove metterli in prospettiva sono come i puzzle dove ci sono tutti i pezzettini che devi mettere esattamente nella giusta posizione ma se non vedi il quadro completo non ci capisci niente non ci capisci niente ma in effetti è quello che io dico questa lì tutta la vita girare i pezzettini uno per uno ma non riuscirai mai a completare il quadro per cui sicuramente sicuramente quindi il tantra è un ottimo esempio di questo no ma poi ho capito perché adesso metto insieme anche le varie varie dottrine per esempio la cabala che io studio da anni anche quella ci sono i personaggi che studiano cabala studiano solo quella per carità è eccezionale ma io adesso sto mettendo insieme tutti i pezzettini perché sto studiando anche l'agnosi e vedo le cose come combaciano il tantra qua perché viene viene stato diciamo introdotto nel Kali Yuga perché come la cabala secondo il simbolo diciamo dell'albero della vita devi passare per forza dal primo triangolo inferiore che sono i genitali e il posto dove i kundalini dormono brava dell'essere umano ma anche nella cabala si parla di una sessualità di un certo tipo come energia eccetera eccetera dicono tutti la stessa cosa ma infatti il problema il problema è che questa diciamo così questa conoscenza antichissima esisteva dappertutto esatto poi cosa è successo che con il diffondersi del patriarcato hanno dovuto nasconderla l'hanno nasconderla perché l'hanno presa di mira in modo esageratamente violento per cui fino io ad esempio una cosa che io mi ha colpito molto è il fatto che durante il periodo in cui è stata scritta la Torah praticamente che è non prima di 500 avanti Cristo non prima non prima per cui fino a quel periodo c'era il grande sacerdote e la grande sacerdotessa il grande sacerdote si chiamava la Ronne e la grande sacerdotessa si chiamava la Miriam sì ok la Maria non è un nome molto diffuso, molto popolare Maria è un titolo sì le Marie, perché c'erano tutte queste Marie? perché erano tutte sacerdotesse del Tempio sì 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 questa cosa la sapevo anche vero, bellissima allora, cioè, se uno dice ah, però, momento cioè, il Dio serpente ecco perché poi è venuto fuori il detto tutte le figlie di Maria sono le prime a darla via beh, in un certo ok in un certo senso battutaggia via, 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 via mettiamo via mettiamo via no, ma a parte questo un altro esempio lampante erra fino al secondo Tempio di Salomone quello che ufficialmente diciamo il primo Tempio di Salomone ufficialmente di Salomone che però Salomone non è esistito però fa niente c'era come si chiama il serpente innalzato il serpente di bronzo innalzato da Mosè sì e quella era Kundalini il famoso Dio serpente la potenza della serpente le Ascera le Ascera erano erano le forme della Dea Madre sì sì per cui, cioè, fino a molto recentemente poi col patriarcato hanno tutto buttato fuori e buonasera comunque dai torniamo torniamo a noi a bomba sul Tantra domanda dimmi allora sì nel leggere questo questo testo si parla di Tantra o meglio la dottrina degli Agama vaidico o non vaidico a vaidico che cosa significa Agama Agama è un sinonimo di Tantra sì uguale è completamente intercambiabile quindi si parla di Vaishnava Agama o Vaishnava Tantra di Shaiva Tantra Shaiva Gama Shakti Tantra Shakti Agama è completamente intercambiabile vaidica e non vaidica si traduce nei termini diciamo così più popolari come dalla mano destra dalla mano sinistra ah ok quello lì è il collegamento vaidica significa che segue i principi diciamo così rituali vedici quindi bisogna essere super puliti bisogna essere questo invece a vaidica non è che non è collegata con i veda ma è un po' appunto sai cosa vuol dire la mano sinistra per la vama marga c'è la dakshina marga la vama marga la vama marga è molto più più selvaggia sì non è che non abbia collegamento con i veda però è collegata soprattutto con le divinità tipo bhai ravi bhai ravi certo perché sono più immediate più non filtrate non hanno l'isolamento anti shock sì sì ma mamma mia sono terribili terribili esatto le ugra per cui lavorando con le divinità le ugra le forme ugra e con la vama marga se non si è ben isolati ci si frigge certo allora nel corso dei secoli specialmente nella zona dell'orissa e del bengala sono diciamo così si è sviluppata una via di mezzo che prende il nome di mishra mishra significa mescolato cioè una cosa insieme due cose insieme diventano una mishra infatti se vai a vedere mishra è un cognome un nome di famiglia estremamente diffuso in orissa e in e in bengala specialmente in orissa i mishra sono partiti proprio dalla diciamo così da un'interpretazione equilibrata proprio dai via di mezzo e ti dirò di più in orissa proprio tipica caratteristica per cui la dachshinamarga la vammamarga si sovrappongono per esempio della divinità di jaganat con la divinità di nishinga nishinga deva è l'avatar di vishnu metà uomo metà leone ed è la divinità la mula mula deva di di puri ed è una divinità che ha i due aspetti sia somia che ugra sia benevola che terribile ok e lo stesso kali madre kali madre kali ha sia l'aspetto benevolo che viene chiamato nila sarasvati si e l'aspetto ugratara che te lo raccomando addirittura i tempi dove ci sono la divinità di ugratara la divinità di ugratara non è visibile al pubblico ma dai è dietro la divinità di kali della somia kali nila sarasvati badra kali badra vuol dire buonina tranquillina simpatica la divinità di badra kali è davanti e poi si vede che dietro c'è una finestra una finestrina piccola dietro la divinità di badra kali e dietro dentro al di là di questa finestrada c'è uno stanzino piccolissimo dove c'è la divinità originaria di ugratara e soltanto e soltanto il pugiare la può vedere e il pugiare deve stare super attento perché lì è come incontrare la nostra ombra no? di più non è la nostra ombra noi siamo la sua ombra è il sole nero è il sole nero e qui vai dell'occultismo diciamo che poi dopo è stato dirottato eccetera eccetera madre ugratara cioè si parla molto del famoso sole nero nella insomma in questa storia dei satanisti ebbè ma guarda che i satanisti sono attratti da questa potenza il problema dei satanisti è che la vogliono controllare ma non possono non possono è cioè è come uno che dice vado a fare la lotta con la locomotiva o col vulcano o col sole cioè ma dove vai non ce la farei mai l'unica cosa che noi possiamo fare è sottometterci rispettosamente e con devozione perché la tigre non mangia i suoi cuccioli per cui c'è anche appunto anche tra i godi e vaishnava che è è sbagliato pensare che i godi e vaishnava dovrebbero mancare di rispetto a madre e totalmente e questa è una è una proiezione abramica perché proprio non c'è è stata è stata costruita attraverso le influenze abramiche negli ultimi negli ultimi due o trecento anni non di più però il il concetto è che la questa potenza questa potenza di primordiale di maha maia in realtà è come una tigre anche all'interno della tradizione godi avashina si dice che nella bocca della tigre i cuccioli di tigre non si sentono non hanno paura anzi si sentono protetti è il posto più sicuro che potrebbero cercare non posso trovare un posto più sicuro chiaro ora sta a noi metterci nella posizione del tigrotto o metterci nella posizione della capra del caprone o addirittura metterci nella posizione del cacciatore del domotore di Neoni che finisce a fare da spuntino perché non possiamo dominare la tigre no dobbiamo stargli in braccio quando noi sediamo nel grembo della madre la posizione più sicura quindi questo vuol dire che quello che sta succedendo ora arriva da lì certo ma infatti un'altra cosa che ha scioccato Raghunath quando è arrivato il ciclone quando nel 2019 che eravamo seduti insieme nello stanzino minuscolo si sentiva il ruggito e io e io sorridevo diceva questa è la voce della mamma 300 e passa chilometri all'ora e lì lo vedi com'è la storia quello che sta succedendo adesso è la mamma che si è svegliata e non è tanto non è tanto contenta di quello che stanno facendo questi personaggetti è un po' è un po' nera un tantino un tantinello nera è chiaro che quando la mamma è così nera bisogna cercare di stare rispettosa a distanza non andare a rompergli troppo le scatto però diciamo che questa è la potenza la potenza diciamo primordiale il tempo questo è anche l'immagine che dà Krishna di sé nella Bhagavad Gita infatti Krishna e Kali hanno lo stesso bigiamante Krim guarda un po' Krim guarda un po' e quando Krishna mostra la forma universale di Arjuna che Arjuna resta terrorizzato e vede e vede che nelle sue nelle bocche di fiamme ruggenti di fuoco ruggente sta stritolando tutti gli eserciti e Arjuna dice dimmi chi sei e Krishna dice io sono il tempo Kallosmi io sono il tempo e sono venuto per distruggere tutti quanti tutti quelli che sono sul campo di battaglia oh cioè non è mica non è mica oh caruccio Krishnino poi piccolino che giacca con le mucchine per questo per questo che io continuavo a dire a tutti state attenti non andate in piazza a manifestare non è quello che bisogna fare esatto comunque andiamo avanti l'importante l'importante è che Vajdika e Avajdika non sono proprio super super chiari come come termini però diciamo che sono un modo più elegante di esprimere questi due questi due approcci ok perfetto e il Mishra noi conosciamo parecchi Mishra si ah no pure ce ne sono una pacca la moglie di Raghunat faceva di cognome Mishra il Pugiari che è venuto per diversi anni a fare diciamo così le cerimonie per le divinità del nostro tempio si chiama Mishra ce ne sono parecchi l'antenato il padre di Christian Chaitanya si chiama Mishra è una categoria di brahmana piuttosto alta cioè quindi praticamente questi utilizzano una giusta via di mezzo esatto diciamo che uniscono loro stessi mantengono una diciamo degli stati di pulizia e di purezza nella loro propria vita ma non sono legati a questi standard quando si si parla dei rituali alle Dasa Mahavidya nel senso che sono anche capaci di baneggiare diciamo così ingredienti della mano sinistra però non lo fanno per se stessi questa è la differenza mentre diciamo così la mamma marga spesso viene abusata da persone che vivono loro stesse in rajas e tamas per cui più che fare delle offerte alle divinità fanno delle offerte a se stessi cioè usano la divinità come un mezzo per ottenere quello che loro vogliono per esempio tu ti ricordi le pancia ma cara le 5 m no mam sa ma sia mudra madha e ma tunna ma 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 diciamo a livello tamasico al pesce ah ho capito cosa stiamo parlando ok ok le 5 macara ma ma mamma si ma madha mudra e ma ma tuna si si allora a livello tamasico è proprio pesce carne liquore eccetera a livello ragiasico sono diciamo così sostanze sostitutive per esempio per masia si usa si usano le lenticchie nere lenticchie nere asafetida eccetera per per mamsa si usa un'altra roba comunque vegetariana per madia si usa l'acqua di cocco tenuta servita in un contenitore di bronzo per mudra si usa si usano i cereali arrostiti tipo snack i cracker e per maitunia si usa fare adorazione alla diciamo così alla forma femminile incarnata dalla madre mentre invece a livello di satwa tutti questi makara si traducono in fiori tutto viene offerto attraverso diciamo ricerche il fiore diciamo così rappresenta e i mudra sono movimenti delle mani si questo ha il satwa quando appunto durante il rituale maituna si preparano questi alimenti eccetera quindi sono ovviamente un'offerta alla divinità giusto esatto esatto quindi non li dobbiamo mangiare noi è quello che fanno i sadaka tamasici li mangi cioè loro li offrono perché così poi li mangiano c'è che capito cioè si possono sono un'offerta alla divinità e noi possiamo consumarli come appressate però è chiaro che noi offriamo a seconda del tipo di livello di 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 che 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 noi abbiamo la divinità la divinità non chiederà mai delle offerte in un livello di di consapevolezza inferiore è giusto perché lo scopo della divinità è quello di elevarci non quello di degradarci è giusto allora il punto è che il sistema del dei livelli più bassi di sadana sono fatti per le persone più grossolane in questo modo si purificano se noi invece lo prendiamo a testa in giù cioè diventa diventa una fonte di degradazione che non è lo scopo del tanto assolutamente è certo quindi quando noi facciamo l'offerta alla divinità in tamas la divinità non è che veramente mangia le offerte di sangue no le accetta nel senso che come tipo le tocca cioè però vengono consumate vengono vengono toccate passano ai ai gana i gana sono i diciamo così servitori i compagni gli associati chiamali come vengono gana vuol dire compagnia gana quelli che assistono rituale no ganesh la parola ganesh è gana isha chiama anche gana pati ora attorno a bairava e bairavi ci sono delle compagnie di fantasmi spiriti raksasa yaksha la preta pisaccia dachini e la lista vitala e va avanti per un pezzo e sono questi gana che sono controllati comunque da shiva shakti per cui non non possono permettersi di andare troppo fuori dalle righe non è che tutti i fantasmi sono gana di shiva shakti però attorno a bairava e bairavi ci sono dei gana infatti gana pati è quello che li controlla il signore dei gana i gana sono quelli che praticamente è come quando tu hai dei cani si ok se uno viene e ti fa un'offerta ti presenta un regalo di cibo per cani tu l'accetti ma non è che te lo mangi te no capisci la differenza sì certo cioè quindi i gana sono un po' come i cani infatti shiva bairava in particolare bairavi sono associati con i cani il vahana di bairava è proprio il cane soprattutto il cane quando per esempio nel tempio di jaganath apuri c'è questa tradizione che quando vedono una cagna nera che è entrata nel tempio vuol dire che c'è bairavi che gli sta avvertendo che c'è qualche cosa che non va nel tempio devono fermare tutto devono purificare tutto eccetera eccetera perché il cane è un animale buono fedele simpatica eccetera ma non è molto pulito no e può essere pericoloso se non se non lo controlli bene finisce che tazzanna pura te eh certo per cui per quella che gana pati ganesh si invoca a ganesh prima delle varie cerimonie per rimuovere gli ostacoli da che cosa derivano gli ostacoli secondo te ecco ecco cioè non è che non è che rimuove gli ostacoli toglie la sedia da dove devi passare cioè rimuove gli ostacoli di queste influenze negative che sono tutto attorno a noi certo attorno e dentro a volte anche dentro eh a volte per cui per cui questa questa è la situazione eh in tamas rajas satwa ci sono diversi livelli di approccio nel rituale nel sadhana tantico ah quindi per capire meglio magari poi concludiamo nel momento in cui eh si procede con il rituale che poi è il panciatattva no è quello che sì si fa tutta una preparazione particolare con questi cinque diciamo elementi e poi si lasciano lì non si toccano in generale sì nel nell'adorazione diciamo a livello tamasico vengono diciamo così abbandonati in natura generalmente vengono vengono abbandonati nei nei corsi d'acqua o nella foresta ok o comunque lontano dall'abitazione ok però ovviamente cioè se uno già mangia diciamo così non vegetariano è chiaro che non è che li butta via se si mangia a lui mentre a livello ragiasico a livello ragiasico non c'è problema perché anche se questi alimenti sono un pochino cioè riscaldano un po' dal punto di vista di energia primaria va bene cioè è presada quindi cioè e dove lo mettiamo si mangia sì si mangia ah si può mangiare no ma tutto il presada si può mangiare tutto ciò che è offerto alla divinità viene santificato rispetto allo stesso ingrediente non offerto alla divinità è meglio quello offerto alla divinità certo ovviamente cioè il fatto che viene offerta la divinità se più è diciamo più è sattvico e più la divinità diciamo così lo potenzia lo purifica ulteriormente anche anche il tamasico viene purificato in una certa misura e infatti i sacrifici animali vengono prescritti per chi vuole mangiare carne cioè non esistono i mattatoi nel sistema vedico nella società vedica non ci sono i mattatoi ci sono i cacciatori nella foresta che si fanno quel cavolo che vogliono perché finché non vanno a rompere le scatole alla gente civile possono vivere come gli pare tra loro sono tutti contenti felici voi state lì e noi stiamo qua cioè se si vogliono mangiare che ne so cioè qualsiasi cosa non c'è problema che lo offrano alle divinità tantriche ugra oppure no ma anche quello è una storia loro possono farlo nella società medica o stai fuori nella foresta e fai il cacciatore oppure ci sono dei templi specifici delle occasioni specifiche in cui chi vuole assolutamente mangiare cose non vegetariane deve portare a sacrificio deve fare l'offerta nel tempio appunto di Itala di Bairava di Bairavi eccetera questo è all'interno del sistema vedico ci sono delle categorie specifiche di Bramana che sono proposte a questo tipo di rituali e devono essere molto molto rigidi molto seri perché ovviamente cioè è come come quelli che si occupano dei cani insomma dove i cani non sono le divinità ma i Gana delle divinità per cui le divinità non vengono mai toccate da nessuna contaminazione e comunque l'offerta che viene presentata alla divinità viene purificata in una certa misura certo è certo che però come fai a purificare un cadavere è come cercare di far diventare bianco un pezzo di carbone si toglia la varma eh no cioè non è che è capito per cui le divinità diciamo così le divinità ugra in generale i tempi di divinità ugra si trovano per esempio nei crematori dove non c'è un gran pericolo di contaminazione sono tutti morti cioè sono tutti cadaveri dappertutto cioè per cui non è che però chi diciamo così i bravano che fanno questo servizio devono stare estremamente attenti devono mantenersi molto puliti quando hanno finito devono purificare tutto cioè e non è che il tempio non è una macelleria chiaro uno va là mi dico un chilo di fettini di fesa no no tu porti l'animale deve essere un animale specifico non puoi portare una mucca assolutamente prima di tutto nessun animale femmina perché portare un animale femmina al sacrificio è offensivo si possono portare soltanto maschi adulti di alcune specie che sono considerate pericolose per l'essere per la società umana quindi il caprone l'ariete il cervo il bisonte il buffalo sono animali pericolosi sia per proprio gli attacchi agli esseri umani sia per gli attacchi all'agricoltura cioè se tu lasci libero un caprone non solo ti va a incornare tutto quello che si muove ma ti mangia via tutto l'orto è interessante è interessante quello che dici perché allora gli indiani d'america che si nutrirono di bufali avevano creavano una sorta di equilibrio ma infatti ma infatti loro facevano rendevano omaggio poi per loro era un rituale una cerimonia era un rituale era un rituale allora il problema quando quelli dicono ah ma sì ma voi criticate noi che mangiamo la carne ma voi sacrifici animali allora cioè se tu vuoi mangiare la carne a tutti i costi devi comunque farlo in modo da ricordare a te stesso di mantenere la consapevolezza che tu devi essere riconoscente alla vita che prendi tu stai facendo un debito verso l'animale che uccidi per mangiarlo nel mattatoio questo scomparla negli allevamenti intensivi questo scompare la gente pensa che gli hamburger vengono fabbricati al supermercato o nel fast food cioè non non cioè quando ai bambini gli dici ah pollo ma pollo ma guarda che strano si chiama pollo anche quell'animale che sì cioè quello è il pollo se tu glielo dici i bambini restano scioccati eh sì infatti se tu glielo spieghi al bambino se gli fai vedere a un bambino come un animale viene macellato squartato eccetera eccetera quello diventa vegetariano e non a caso i mattatoi per legge non devono avere finestre e che diano su luogo pubblico per cui è vietato andare a visitare i mattatoi ma perché la gente diventa vegetariana poi per cui questo è il concetto prima di tutto appunto solo animali maschi di alcune specie specifiche un'altra delle specie specifiche che non vale credo la storia del maschio e della femmina perché è difficile capirlo sono i pesci i pesci possono essere offerti infatti come mazia come sacrificio possono essere offerti all'interno del rituale tante cotta maschi però anche lì quanti rituali tantrici puoi fare mica li puoi fare tre volte due volte al giorno no sì per cui è come è come fino a 50 100 anni fa la storia la maggioranza della gente pur non essendo specificamente vegetariana mangiava il pollo cinque volte all'anno sì come io che dopo 30 anni che non ho toccato cibo animale ho introdotto il pesce ma lo mangerò una volta ogni tre mesi esatto e praticamente è quasi come non è che questa storia infatti questo diciamo così che è una situazione sostenibile non è una situazione ideale dal punto di vista sattrico ma è sostenibile quello che non è sostenibile sono gli allevamenti intensivi e i matutori e la pubblicità la filiera commerciale che ti spaccia per cioè per ah che bontà questo questo non è non è sostenibile mentre a livello sattrico quindi il cibo ovviamente di carattere vegetale esatto e anche quello può essere mangiato certo certo anche esatto a livello a livello ragiasico è più che altro cibo a livello sattrico sono fiori sono meditazione si offre la meditazione si offrono le qualità e e su un livello diciamo così su un livello molto più come dire di sottile sottile più livello più sottile positivo il cibo è ragiasico infatti si offre soprattutto delle frittelle di 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 legumi si offre con la soffettina si offre lo zenzero si offre ok bene bene grazie interessante no ho chiarito meglio la la questione perché io quando avevo letto questa storia di questi cinque cibi mamma mia ho detto ma non è possibile non mangiare carne quella roba lì bere il vino io non lo bevo il vino mi rifiuto di fare una roba del genere adesso ho capito meglio certo sì infatti non è non ci sono delle proibizioni secche nel sistema vedico non ci sono dei comandamenti delle proibizioni tipo bibbia o corano per cui no ci sono dei principi certo che è diverso i principi i principi fondamentali sono la compassione e la pulizia quando uno non è vegetariano ci mano di mezzo la compassione e la pulizia certo per cui cioè non è che se tu non fai il sacrificio animale e poi ti mangi la fettina vuol dire che va bene anzi no 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 va bene va bene bene allora dai ci sono ancora gli ultimi dieci minuti i bija mantra ok allora facciamo eventualmente un ok facciamo una condivisione vediamo un attimo il documento che ti ho mandato parla un po' del rituale tantrico della pugia questa appunto una citazione dal nostro simpatico amico Avalon che coloro che adorano che hanno adorazione con l'obiettivo di ottenere una particolare ricompensa ottengono queste ricompense che comunque è temporanea come un regno acquisito in sogno quelli invece che agiscono rettamente senza aspettarsi una ricompensa raggiungono nirvana e sono liberati dalla rinascita cioè questo con maha nirvana tantra poi un'altra cosa importante che nei tantra viene ripetuto costantemente che questa conoscenza del tantra non deve essere trasmessa ai paschu i paschu sono le persone che hanno una mentalità di animali ah si si cioè sono gli animali umani quindi puja la divinità preferita cioè istadeva che può essere il sole surya shiva sharti vishnu e ganesh eccetera eccetera allora questi sono gli ingredienti o accessori chiamati upachara i sedici principali sono asana svagata paddha arghya acamana madhuparka snana basana abharana gandha pushpa dupa dipa nevegna e namaskar e namaskar quindi questi sono in generale oltre all'offerta dei cinque di panciamakara c'è la puja l'arati in specifico si chiama upachara upachara puja ci sono sodasa upachara che sono sedici ci possono possono essere anche otto oppure cinque per chi vuole fare una cosa più sbrigativa c'è più un'elaborazione non so se ti ricordi che avevo accennato al mio libro su puri nella parte appunto dei rituali che puri è proprio super il centro assoluto di questo tipo di di cultura esistono molti altri shakti pitta che sono importanti centri tantrici ma non ma la tradizione del mishra cioè delle due vie equilibrate esiste soltanto in orissa proprio l'orissa e puri in particolare è proprio il centro anche lì si potrebbe parlare di harihara di nishinga che sono importanti nishinga saraba di davagungera sono tutte forme che la maggior parte perfino degli abitanti di puri non conosce ci credo bisogna bisogna proprio andare a pescare l'india è grande poi comunque è stata contaminata sì ma poi sai Kali Yuga Kali Yuga picchia nel senso che le persone non è che perché sono andate in India sono più intelligenti si esaurisce un po' in merito degli antenati io stamattina ho fatto un incontro con l'amico Arun Mahapatra anche questo proprio tipico di Dolorissa che però sta a Calcutta e abbiamo parlato dei Shrad dei Pitri Pitriloka dei Lokas Vargaloka eccetera eccetera che lui cioè queste persone sono molto interessate alle mie spiegazioni perché nessuno gliela spiegate questo no ma è così ma guarda io comunque ho fatto diversi corsi di tantra con tutte persone che sono stati 20 anni in India hanno avuto i grandi maestri eccetera però io poi dicevo ma questi qua lo sentivo che non c'era niente allora dipende 20 anni in India dipende dove stai perché se vai nell'ashan di Sai Baba per vent'anni stai nell'ashan di Sai Baba se io fosse stato a vent'anni venticinque anni trent'anni nell'ashan degli Hare Krishna in India ma ero ancora fermo trent'anni fa nel 84 ho cominciato a girare da sola in India da sola e sono tu hai conosciuto per caso un certo Shri Parama magari un nome abbastanza eh sì appunto non è molto specifico come comunque cioè io specialmente specialmente a Puri attraverso la famiglia di Ragunath eccetera io praticamente sono entrata in contatto con i personaggi che non si trovano per strada per cui va bene quindi questo è importante poi questo era per dire che se hai tempo lo so che tempo non ne hai molto no no tranquilla se ci dai un'occhiata al mio libro su Curi vedi che c'è un sacco di roba poi io i tuoi libri a parte che ce li ho anche cartacci perché te l'ho fatti vedere io li avevo anche acquistati tempo fa prima di portare allora io leggo due o tre libri contemporaneamente perfetto al cartaccio sì mamma mia quindi quindi c'è il bahiryaga che è l'adorazione esteriore e poi c'è l'antaryaga l'adorazione interiore quindi l'adorazione esteriore diventa diciamo così il sostegno del rituale interiore il vero rituale è quale interiore è certo non è quale esteriore è soltanto un sostegno una gruccia sono le linee guida per poi dopo interiorizzare tutto quanto questo questo è importante quindi gli aspetti grossolano sottile e supremo quindi tamas rajas satwa e addirittura al di là di satwa vishudha satwa quindi dopo un certo livello l'adorazione esteriore può non essere più necessaria o può essere complementata con quella interiore quindi per esempio eccetera eccetera poi c'è i gayatri tantrici ecco anche questa è una cosa che ti volevo chiedere in effetti ho letto adesso dove l'ho letto non me lo ricordo ma comunque i rituali gayatri sì il rituale gayatri io so che c'è un mantra esatto è questo gayatri e il rituale quello lo so quindi quando si parla sì ma quando si parla di rituale il rituale è semplicemente la recitazione del gayatri che viene associata che viene associata prima di tutto si recita come japa cioè un certo numero di volte su japa e poi viene diciamo recitato il gayatri in particolare ci sono molti gayatri questo è il gayatri diciamo così primario sì e poi ogni divinità ha il suo gayatri ah eh eh ogni divinità ha il suo gayatri per esempio il gayatri di krishna c'è il gopala mantra e poi c'è il gayatri di krishna si chiama kamagayatri kamagayatri krim kamadavaya vidmahe pushpapanaya di mahi tanno tanno occidenti ragazzi che roba ma quante ne sai no questo è una cosa normale con tutti i godi avaishnava quando l'iniziazione nel godi avaishnava è il gopala mantra e il kamagayatri il gopala mantra il gopala mantra e il kamagayatri ma le trovo questi qui in internet se li trovo io facile non è un problema 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 e ogni tanto c'è il senior moment che ups il neurone mi cede gli cedono le ginocchia capirai capirai klinkamadevaya vidmahe pushpabanaya dhimahi tanonanga apra chodayat kamagayatri ed è quello di Krishna non dice ma va kamagayatri e invece il gopala mantra è klinkeshnaya govindaya quindi ogni divinità ha il suo gayatri e il gopala a quale divinità si fa riferimento gopala e Krishna ah è sempre Krishna sempre Krishna infatti sono due che vanno insieme il gopala mantra il dvadasakshara mantra va insieme con kamagayatri e poi ci sono i diciamo i mula mantra per il gopala mantra è il mula mantra di Krishna cioè il mula mantra e i gayatri mantra vanno recitati insieme un certo numero di volte durante il rituale cioè quando si offre si offre per esempio appunto il seggio i fiori e questo gli si offre ripetendo il mula mantra e il gayatri mantra ma durante qualunque rituale durante il rituale personale della dell'adorazione alla divinità alla forma della divinità sia sia esteriore che interiore ok è un bel pacchetto bello bello si si ma pian piano lo spacchettiamo si beh io di mantra ne conosco anch'io eh tanti eh mula lo conosco la gaiatri figure ti sono anni che la recita ebbè ma mula è un concetto non è un mantra solo beh mula non vuol dire radice ma la radice della divinità di quella divinità specifica non è non esiste un mula mantra universale ok è come dire la categoria boh la categoria del della pasta cioè la pasta è una ricetta di base e poi dopo c'è la pasta col sugo la pasta con i piselli la pasta col pesto cioè quando dici mula mantra oppure facciamole proprio l'esempio con le piante mula è la radice la radice di che puoi avere centinaia di piante diverse certo ogni pianta ha la sua radice così come ogni pianta ha il suo seme bigia mantra mula mantra sono categorie di mantra però ogni divinità ogni forma della divinità ha il suo mula mantra il suo bigia mantra e il suo gaya trimantra il bigia mantra va a formare il mula mantra il mula mantra deve essere accompagnato dal gaya trimantra poi chi vuole complicarsi l'esistenza ulteriormente ce n'è c'è il chila c'è 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 come si chiama il chiodo per fermare il mantra c'è questo c'è quella quella però diciamo così di base il minimo il minimo sindacale è bigia mula e gara l'utilizzo del bigia mantra perché è un solo suono cioè è un solo una sola parola è proprio un solo suono può essere anche una serie di suoni diciamo così singoli che vediamo vediamo quasi c'è appunto in questo documento andiamo più avanti ma ci sono tutti gli ingredienti eccetera vediamo un po' ecco per esempio qua anche come ganesha esatto guarda quanti bigia mantra ci sono qua li puoi mettere insieme diventano potentissimi 6 e 8 per ananda bairava ci sono 8 bigia mantra ok capito perché ananda bairava è una particolare forma di shiva che viene espressa in modo modulato da una quantità maggiore di bigia mantra i bigia mantra come vedi qua questo qua è un mula mantra per cui ha i bigia e poi ha la diciamo così ananda bairava e in questo particolare invece di svaha abbiamo voshat voshat significa che si sieda che rimanga che si manifesti che sia presente tutti i ricordi vassa vassa significa abitare stare giusto voshat vuol dire che si che abiti che risieda che sia che venga qui che resti qui capisci per cui c'è bigia mula e poi c'è la parte diciamo strumentale che può essere svaha può essere lo shah può essere ma in effetti adesso che mi viene in mente c'è ce ne sono diversi così anche il mantra di tripura sundari di bairai e così anche quella di bairai sono diversi tutti esatto quindi bijia mantra ci sono dei mantra fondamentali di bijia e poi dopo ci sono le varie le variazioni che sono una modulazione dell'energia della divinità per cui io sinceramente sconsiglio sempre di 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 usare terminologie come proprio usare i mantra perché i mantra sono una manifestazione diretta personale della divinità noi non dovremmo osare di pensare che stiamo usando la divinità no perché è come pensare che possiamo maneggiare i fili della corrente senza i guanti quello che si fa quello che si fa in tutte le altre religioni ma in tutte le altre religioni vabbè adesso potremmo aprire tutto un capitolo che non è il caso ci siamo capiti certo certo quindi benissimo si purvivono i mantra ah kshomam kuro 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 significa fai giusto tu lo sai che sono stata io lo sai che sono stata scomunicata dalla chiesa katramica ah ma guarda che siamo tutti scomunicati e lata sentenze no no ma io è ufficiale ah sì ti hanno mandato sì 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 i lucieri no no ma gliel'ho chiesto io di farlo ah vabbè ok dai queste sono cose personali dai vabbè fa niente ma te le dico lo stesso giusto va bene va bene giustissimo giustissimo ok allora abbiamo ancora un po' di tempo ma sono le sono le otto e dieci eh vedi tu ma guarda io sforerei tranquillamente però non voglio non voglio io un po' di tempo ce l'ho ancora io starei qui all'infinito con te figurati beh adesso non esageriamo no no ma nel senso scherzi io sono entrati in un altro mondo quindi ottimo 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 ecco per esempio per esempio questo è un altro mantra dove abbiamo omrim è il bija mantra hamsa soham è il vula mantra è l'invocazione al cigno interiore al paramahamsa swaha è l'offerta poi c'è I'm clean saw sono saw sono bija tripura sundari diventa mula mamraksha raksha significa proteggimi e quindi questo è la parte funzionale del del mantra che bello infatti interessanti ecco qua abbiamo guarda che bello ma infatti io posso ti ho mandato il documento documento no no ma il documento l'avevo letto a metà poi l'ho lasciato e beh beh che bello denso poi anche in inglese no no vabbè ma quello quello non è un problema l'inglese allora un'altra cosa interessante vedi qua nella linea compiere il niasa usando il pollice e il medio cos'è il niasa? non è la respirazione? no 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 ah come si dice la mala no no il niasa è l'applicazione del mantra sul corpo è casa la corazza la protezione cioè il il l'angha niasa e il karaniasa karaniasa ma nel mantra sul corpo in che senso? con le labbra appoggiate proprio sul sì 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 il karaniasa si fa sulle mani e il hangha niasa si fa sul corpo intero usando le diciamo così per esempio usando il pollice generalmente si toccano le giunture delle mani per il karaniasa e ogni giuntura si applica un mantra che per esempio per vai shnava tantra om govindaya na ma om mamana na ma om trikama na ma e a ogni giuntura questo è karaniasa quindi sono vi dicono questo è sicuramente il il hangha niasa perché i numeri qui dalla ripetizione sono probabilmente comunque dovrebbero essere tu conta quante sono le giunture dovrebbero essere 12 giunture invece qua abbiamo 22 23 24 quindi sono per il hangha niasa quindi come sarebbe scusa come l'hangha niasa è la stessa cosa si applicano i mantra sulle varie parti del corpo ma con le dita sempre esatto si tocca si tocca la parte del corpo e con la panamudra insomma si esatto e si scarica panamudra si usa il mudra o comunque la mano per scaricare l'energia del mantra ho capito quindi si applicano i mantra come un cavaccia come una corazza un'armatura ma volendo io potrei farlo direttamente con le mie labbra sul corpo o sulle parti del corpo no fanno con le mani le labbra non sono considerate adatte chi deve purificare le mani devi lavarti le mani poi con la mano purificata tu applichi il mantra perché se lo fai applicando la bocca sul corpo la bocca non è considerata pura la mano destra in particolare è considerata pura specialmente il pollice e il medio si lascia fuori l'indice e l'anulare e il mignolo anche quando si mangia solitamente si lascia fuori l'indice e il mignolo perché sono considerati meno pure del pollice medio anulare quindi se vuoi fare bella figura quando ti invitano i bramana a pranzo devi prima di tutto tenere la mano sinistra dietro la schiena e non usarla mai per i mancini è un bel problema eh per il mancino è un bel problema eh sì eh sì dai ma dai cioè va bene e poi appunto mangi con la destra usando soltanto toccando il cibo soltanto con pollice medio anulare perché così gli impressioni tutti quindi allora io in questo caso pollice e medio le dita così le devo le devo applicare da qualche parte sul corpo o le lascio di solito si applicano sul cuore sul chakra sulla sommità della testa sul retro sulle spalle sui fianchi ma questo questo non è specificato dove devo sì sì è specificato non qui ma per esempio adesso non mi ricordo più dove l'ho messo nel libro su puri ma comunque io ho Narayana Kavaccia che diciamo così lo presentavo come esempio Narayana Kavaccia è spiegato nel Bhagavata Purana e c'è tutto il Gnasa che ho preparato tutto il Gnasa per farlo Narayana Kavaccia è potentissimo è l'armatura di Narayana e io ho l'esperienza ho fatto l'esperienza diretta che è il periodo in cui traducevo i libri per la battimento a Book Trust sono arrivata appunto al capitolo Narayana Kavaccia e in un flash mi sono ricordata come si faceva per cui ho preso su tutti gli appunti ho trovato le corrispondenze dei mantra Langanyasa Karanyasa se ti volevo far vedere ma quindi cosa ne pensi quindi del sound healing quello che si fa proprio sul corpo con i bigia però appoggiando proprio perché a me me l'avevano insegnato così allora è un healing non è un rituale ah ok perché il rituale non ha lo scopo di mandare una particolare energia di guarigione capito adesso io non lo so questa cosa delle labbra probabilmente cioè vogliono vogliono far sentire la vibrazione sonora però mi sembra strano vabbè ma giustamente con i tuoi tuoi è un healing cioè se serve per guarire allora si è un'altra categoria un'altra cosa ho capito perfetto va bene quindi abbiamo affrontato un po' anche il Niasa fantastico bello grazie bellissimo dopo te li cerco tu ricordami le cose che ti devo trovare il Kama Gayatri e il Gopalamante aspetta 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 che facciamo oooops 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 ooooh ooooh